Benvenuti e bentornati sul giornale della bellezza.it Oggi parliamo di Christmas gift, ovvero di regali di Natale In questo video vi mostro le mie migliori idee regalo Prodotti di make up, prodotti di skin care, kit, set, palette, make up Insomma, vi lascio il resto del video Iniziamo con un kit di skin care davvero bomba Voi lo sapete, la skin care è fondamentale Non esiste make up performante se non partiamo da una buona base Se non utilizziamo i prodotti corretti per la nostra tipologia di pelle Il brand in questione è Drunk Elephant Drunk Elephant per queste festività ha lanciato dei kit veramente bellissimi E per tutte le tasche Il kit che vi mostrerò oggi nello specifico è il Saving Face È uno dei miei kit preferiti Il packaging è veramente eterio, è bellissimo All'interno di questo pack da collezionare Troviamo 4 prodotti must have del brand E tra l'altro comunque le quantità sono abbastanza generose Guardando anche l'interno, la cura dei dettagli È un kit di cui mi sono innamorata Troviamo all'interno una maschera idratante 15 ml Un gel struccante al cantalupo 3, la glicerina da 30 ml Troviamo poi uno dei prodotti top appunto del brand Il Framboa Glicolic Nye Serum Ovvero un siero notte Credo che ci sia all'interno acido glicolico Comunque contiene degli acidi Ma successivamente sul giornale della bellezza.it vi recensiremo appunto tutti i prodotti Che troviamo all'interno E poi must have Troviamo il proteine polypeptide cream crema occhi E all'interno troviamo 30 ml di prodotto E a proposito di contorno occhi Continuiamo con i gift di skin care E ovviamente come ogni Natale non può mancare un device poreo Questa volta però nello specifico vi mostro uno dei miei device preferiti Ovvero Iris È il device ideale per il contorno occhi Dona un massaggio levigante Dona un massaggio rinvigorente È l'ideale specialmente in questo periodo di smart working È ideale per donare luminosità al vostro sguardo E per ravvitare Se siete amanti del trucco viso Se siete amanti dei blush e degli illuminanti Un kit che vi straconsiglio è il Best of Blush di Tarte Cosmetics Il brand è approdato soltanto quest'anno da Sephora Italia Ma adesso troverete veramente tantissime referenze Io trovo che Tarte Cosmetics sia un brand dal rapporto qualità prezzo eccellente Io conosco molto bene il brand Perché già l'ho acquisto da diversi anni negli Stati Uniti Ho provato veramente di tutto Ho provato la skin care Ho provato i blush, make up, mascara Veramente contiene all'interno delle referenze Veramente must have Questo kit è veramente carinissimo Tra l'altro sul retro troviamo To From Quindi è già pronto per essere regalato A meno che non ve lo vogliate tenere per voi E troviamo appunto una nuova shade di illuminante E quattro blush Quindi troviamo veramente una vastità di colorazioni bellissima Tra l'altro contiene all'interno la formula speciale L'Amazonian Clay Quindi all'interno trovate una formula molto cremosa Molto pigmentata e long lasting Infusa con l'argilla amazonica Ovvero prodotto formula must have di Tarte Cosmetics Una vera e propria chicca È un pensierino veramente carissimo Da attendere al vostro albero di Natale Qui troviamo Beauty Blender Quest'anno per le festività Beauty Blender Quindi la spugnetta trucco più famosa del mondo Ha un suo porta Beauty Blender A forma di cono gelato Ditemi se non è un'idea regalo meravigliosa La Beauty Blender credo che sia Ok magari non è una spugna molto economica Ma a mio avviso resta la più performante E poi guardate è veramente bellissimo da regalare Da appendere al vostro albero di Natale E poi dopodiché Dopo Natale l'aprite Potete utilizzare la spugna E potete riporla tranquillamente Nel suo porta Beauty Blender Un'altra idea super cute Da appendere al vostro albero di Natale È il duo di Lanolips Contiene all'interno sia il trattamento alla lanolina Super idratante Specialmente ideale per questo periodo invernale E successivamente troviamo un prodotto ibrido Il Bronze Gold Tint Quindi è una tinta leggermente bronzata Quindi ideale per essere scintillose durante le feste Ma all'interno troviamo anche la famosa lanolina Quindi per labbra morbide e idratate Io adoro i Christmas gift da appendere all'albero di Natale Sono veramente dolcissimi Iniziamo con il Glow Tonic di Pixi Quindi quest'anno Glow Tonic diventa anche un addobbo di Natale Ovviamente non ha bisogno di presentazioni Perché è uno tra i tonici che contiene all'interno acido glicolico Più famosi al mondo Vi permette di esfoliare la pelle del vostro viso Di donare luminosità Credo che sia un prodotto da avere sempre Con sempre Un prodotto stra indicato Dopodiché troviamo invece un'idea super carina di Dr. Jart All'interno di questo kit troviamo 4 prodotti best seller della linea Siga Pair Quindi che contengono all'interno la centella asiatica Allora, nello specifico qui troviamo una maschera idratante Un trattamento correttivo Il classico trattamento di Dr. Jart Dopodiché troviamo anche una mini crema Dalla textura un po' più idratante E un siero Quindi un'idea regalo magica Guardate il packaging Sembra quasi la mano di Topolino magica Un'idea regalo performante Ideale specialmente se avete una pelle molto sensibile Soggetta a cuperose Quindi stra stra indicata E adatte a tutta l'età Passiamo ad un'idea regalo piccolissima ma bellissima Ovvero il mini power bullet kit di Huda Beauty All'interno troviamo due dei più famosi rossetti di Huda Dalla texture matte Infatti sono i matte lipstick Ma guardate quanto sono carini Sono piccolissimi ma dolcissimi E ovviamente troviamo dei prodotti performanti Indiscussa la qualità dei rossetti di Huda Beauty Guardate che sono carini Le shade tra l'altro sono delle shade must have Questo qui che avevo sbocciato prima È El Cinco de Mayo Bellissimo E tra l'altro è la tonalità che indosso proprio in questo video E qui invece troviamo un prodotto Un rossetto must have promotion day Guardate che sono belli questi rossetti È un regalo che costa pochissimo È piccolissimo Ma vi assicuro che se dovete regalare qualcosa Ad un'amica make up addicted Amerà sicuramente questo duo Se siete amanti dell'effetto glow Se siete amanti degli illuminanti Se volete che vi vedano anche sulla luna Allora non posso che non consigliarvi il glow sugar kit di Anastasia Beverly Hills Ma cos'è il packaging È veramente bellissimo Ebbene mi è arrivata una segnalazione da parte di Babbo Natale In questo video ho detto fin troppe volte bellissimo Ma mi ha detto che per Natale si può fare Sembra una caramella disciolta nello zucchero filato È veramente bellissimo All'interno troviamo quattro shade di illuminanti Non contiene questa palette uno specchio Ma guardate quanto sono grandi le cialde E ovviamente cosa dire Della qualità degli illuminanti di Anastasia Beverly Hills Sono veramente dei prodotti super cremosi Burrosi al tatto Non evidenziano i pori Facilissimi da applicare Potete applicarli sia con le dita Ma ovviamente per un effetto più power più professionale Con il pennello sono veramente indicati Potete utilizzarli sia sul viso ma anche sugli occhi Io adoro questa palette di illuminanti Top Ci stiamo avvicinando al round finale Prima di passare alle due palettes Che ho selezionato per questo video dedicato ai Christmas gift Voglio concludere con un prodotto ibrido Sia di makeup che di skincare Holiday Fable di Kiko Milano Ovvero la nuova collezione di Natalizia del brand Ha lanciato questo 3 in 1 Rosy Glow Potion Una pozione glow Per restare in tema Glow Che ha un packaging Veramente bellissimo Che vi ho mostrato tra l'altro Nel video dedicato alla collezione Holiday Fable di Kiko Milano È una pozione magica Veramente bellissimo Se amate i primer Se adorate i sieri Abbastanza nutrienti e luminosi E se amate le rose e i packaging Questo può essere una perfetta idea A regalo È veramente bellissimo Una chicca È in limite d'edition Quindi se amate le profumazioni fiorite e fresche Se amate il rosa È sicuramente da avere Tra le domande dei nostri lettori più ricorrenti Ci sono delle domande dedicate alla palette occhi È veramente difficile scegliere solamente una palette occhi nel 2021 Però in questo video ho scelto due palette secondo me ideali per questo periodo Ovvero la Anarchy Glam Palette di Mulac Cosmetics È l'ultima palette nata in casa Mulac Cosmetics La adoro perché credo che sia la palette ideale per le feste Ovviamente non solo Troviamo una palette veramente elegantissima Troviamo shade bellissime Ovviamente è una palette un po' più nude Ma la texture di questa palette Troviamo veramente delle shade Luminose Questa palette non fa full out Si aggrappano perfettamente alla palpebra Se desiderate ricreare un make up elegante Questa palette è straconsigliata È ideale per tutte le fasce d'età Ovviamente non potete creare dei look pop Ma se amate un look elegante Questa palette è veramente ideale Secondo me Chi riceverà questo regalo Vi amerà alla follia Perché è una palette sicuramente da collezionare Concludiamo con una palette bellissima Che ha lanciato Kiko Milano Proprio in occasione di queste feste Quindi è veramente la palette delle feste Holiday Fable Celestial e Shadow Palette È una palette dal packaging elegantissimo Che potete tranquillamente mostrare nella vostra make up station Perché non va riposta nel cassetto Assolutamente ma mostrata È veramente molto bello E all'interno troviamo Sì delle shade nude Una scala colori comunque abbastanza nude calda Ma vi assicuro che troviamo all'interno shade luminose Guardate Guardate questa shade Potete tranquillamente truccarvi soltanto con questa shade di color bronzo La scrivenza di queste polveri è pazzesca E anche le tonalità matte si comportano veramente benissimo Sono facili da sfumare Il make up è long lasting Questa palette è veramente incantevole Bellissima Ebbene il video dedicato ai Christmas gift 2021 termina qui Fatemi sapere cosa ne pensate Ovviamente in queste ultime settimane sono uscite veramente tantissimi lanci Quindi troviamo veramente una vastità enorme di idee e kit regalo Però queste che ho selezionato A mio avviso sono delle idee veramente innovative Super super cute Non dimenticate di seguire il giornale alla bellezza.it E buon Natale